Shine Bright Like a Diamond. A brillare come un diamante sono le dieci opere di artisti della scena contemporanea realizzate per celebrare i cent'anni dell'Università di Trieste. Allestite sui diversi livelli degli scaloni dell'edificio centrale, le stanze d'artista propongono lavori di grande impatto tra installazioni, disegni, sculture, foto, quadri e opere di sound design. Iniziativa che abbiamo voluto in quanto anche membro dello SMATS che è il sistema museale dell'Ateneo di Trieste per cercare di avvicinare gli artisti all'Università e quindi facendo delle residenze d'artista in cui gli artisti conoscono l'Università, conoscono chi ci lavora, conoscono i ricercatori, conoscono gli studenti, frequentano i laboratori. Obiettivo dell'iniziativa è raccontare attraverso lo sguardo dell'artista la ricchezza e la complessità di ogni disciplina accademica. Hanno collaborato tutti con i vari dipartimenti, quindi abbiamo avuto tre giorni prodromici di conoscenza dove ad ognuno è stato presentato il proprio dipartimento. Loro avevano già un progetto iniziale perché era stato richiesto e la cosa bella sicuramente è stata data dal fatto che poi questo progetto in alcuni casi si è modificato perché con il dialogo poi ci sono state ulteriori interazioni, sperimentazioni di macchinari. Il titolo, citazione di una famosa canzone, è un gioco di parole che volutamente rimanda, ricorda e splendi, il catalogo generale dell'intero corpus di opere artistiche dell'Ateneo che sarà arricchito con le nuove realizzazioni. Questa non è una mostra che noi oggi inauguriamo, è la mostra degli interventi risultato finale, ma c'è un dietro delle quinte molto ricco, molto importante, in cui hanno il loro confronto significato anche proprio la generazione di nuovi progetti. La mostra è visitabile a ingresso libero nei giorni feriali con orario dalle 9 alle 18, dal 15 novembre per tutto il 2024 nell'edificio principale dell'Università in piazzale Europa 1.